bella ragazzi benvenuti allo shop del 30 ottobre scusate per quello per lo shop di ieri che non sono riuscito a farlo stasera il 30 ottobre abbiamo la moglie di Frank non vuole vedere però solida 1200 vipac rianimata e reinventata fa parte del 7 mostri universali capito 2 a fagione 8 vabbè abbiamo una latrina con il suo doppio stile con il tristorso qua oroboro no fa parte del set oroboro questo è la latrina per paradosso che non si spava la fatica a cantarlo 1500 vipac poi c'è un visione icone 800 vipac la bellissima bombarola bombardiere oscuro non ricordo male con il suo dorso decorativo non fa fatica a cantarli nuova carica pronti cosa è rimasto qua il crash tonante 1200 vipac è il glufo 500 vipac per il glufo distinto ma la skin verde bombola variazione il dorso stagione 6 poi dove è rimasto rinnegata stagione 1 no questa è della stagione 1 ragazzi questa deve essere rara in teoria prima apparizione stagione 1 non la spavola ovviamente non la carica pacchetta stella 800 vipac parto per video video vi youtube e ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.